Lo ha detto con una battuta a margine della presentazione del bozzetto della Lancia d'Oro. Oramai ci sono abituato ad andare in minoranza. È indubbiamente una notizia che l'Assemblea del lato dei rifiuti, presieduta proprio dal sindaco di Arezzo, abbia votato il rinvio della delibera proposta dallo stesso Ghinelli riguardante il termo valorizzatore di San Zeno. I contenuti erano sostanzialmente l'approvazione da parte del lato di un accordo che interverrà tra Sei Toscana e Aisa Impianti riguardante l'utilizzo dell'attuale linea da 45.000 tonnellate che inizialmente era stato pensato di disattivare completamente nel momento in cui sarà realizzata la nuova linea da 75.000. Ma che in realtà è stato pensato, ed è questo il tema dell'argomento, di mantenere in vita per trattare gli scarti della raccolta differenziata in un accordo che interviene direttamente a questo punto tra il gestore, che ricordo è il gestore dei rifiuti di Ato Toscana Sud, non ha altre implicazioni dal punto di vista territoriale, e uno degli impianti di Ato Toscana Sud, in particolare l'impianto di San Zeno. Il sindaco di Civitella Tavernese si è fatto portatore di una preoccupazione riguardante l'arrivo nel nuovo impianto così ampliato di rifiuti provenienti da altre realtà territoriali e nonostante l'emendamento in questo senso presentato da Ghinelli, la maggioranza ha votato il rinvio. Il sindaco di Arezzo minimizza comunque l'episodio. Lo indicherei come un incidente di percorso e non come uno stravolgimento dei piani che Aisa Impianti e la provincia di Arezzo si sono dati rispetto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che vorrei anche ricordare contengono un contenuto non secondario di produzione di energia, portando la provincia di Arezzo e in particolare il comune di Arezzo verso una condizione di quasi autosufficienza nel caso che questo impianto venga in tutte le sue parti realizzato così come proposto.